Abbiamo il piacere di incontrare oggi nella nostra diocesi il Cardinale di Praga, Milos Lavolk, invitato in Ticino dall'Associazione Internazionale Aiuto alla Chiesa che Soffre. Noi facciamo un lavoro di sensibilizzazione sulle persecuzioni che i cattolici e i cristiani subiscono in diverse parti del mondo. Questo lavoro di sensibilizzazione poi vuole avere il risultato di sostenere con dei progetti pastorali le diverse diocesi che si trovano in difficili situazioni. Lavorate in tutto il mondo in particolare, in quali situazioni? Allora, lavoriamo in tutto il mondo, questo significa in Africa, in Asia, nei paesi arabi e anche nell'Europa orientale e sosteniamo quindi sacerdoti, suore, tutte persone che appunto fanno sì che la Chiesa possa operare anche in questi contesti difficili. Bene, io la ringrazio, la ringrazio soprattutto per averci dato la possibilità di incontrare il Cardinale Lavolk. Eminenza, lei è appunto stato invitato anche per parlare di un tema che oggi tocca molti, il futuro dell'Europa è nelle sue radici. Secondo lei l'Europa si riconosce ancora nelle sue radici oppure è attirata da nuovi modelli? Io direi piuttosto che non ancora, le radici nel passato era chiaro, le radici cristiane e certamente anche altre, altro influsso greco-romano e anche musulmano, ma le radici cristiane. Se guardiamo attorno, vediamo che in Europa non ancora si rende allora queste radici, ma mi pare piano piano sì, perché i capi della Commissione europea, in passato, dal Presidente Delors cominciando, parlano della necessità di avere l'anima per l'Europa, di trovare. Io direi che proprio questo è questo cercare l'anima, vuol dire l'anima cristiana, le radici cristiane per l'Europa. Allora si comincia, ma per esempio Annis quando si è parlato di questa carta dei diritti d'Europa, c'era una discussione che mostrava che non ancora si rendono conto tutti di queste radici, ma mi pare che viene, viene. Infatti il Papa insiste molto su questo preambolo della carta europea dove venga citata appositamente la radice della nostra storia. Mi pare che è giusto, giusto. Il primo Presidente della nostra Repubblica, il Presidente Massaric, ha detto «Le nazioni vivono dalle radici dalle quali sono nate». Allora io posso sfruttare questo detto del Presidente Massaric anche per l'Europa, perché la cultura, il passato nostro è cristiano, allora non possiamo tagliare perché un albero che si taglia dalle radici non può vivere, e così anche per l'Europa. Certamente non significa che noi torniamo in passato, nel Medioevo, no, no, no. Ma in questa situazione attuale cerchiamo di ravvivere queste radici o vivere da queste radici, per presente e anche per futuro di Europa. Lei è stato fino all'anno scorso Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, sostituito dal nostro Vescovo Monsignor Grab. Ci puoi dire qual è il polso della Chiesa in Europa oggi? È un po' difficile dire un sommario, diciamo, o una visione, ma mi pare che dopo un certo tempo di ghetto, perché nei secoli scorsi la Chiesa era in ghetto, non usciva fuori per partecipare nella società e così, e dopo questo tempo mi pare, dopo il Concello Vaticano II, la Chiesa in Europa si comincia a rendersi conto della necessità di vivere in valgelo alla lettera, direi, e di fare di nuovo un'esperienza propria per poter testimoniare a questo mondo secolarizzato che ci circonda proprio Gesù Cristo, perché oggi non si può predicare. Si può predicare, ma la gente non lo sente, non lo capisce, non lo accoglie. Allora, con la testimonianza, e questa è la necessità per la Chiesa in Europa, anche, direi, da noi è lo stesso, noi lo sentiamo ancora più forte, perché durante il comunismo non potevamo parlare, predicare, ma potevamo vivere, fare l'esperienza e poi testimoniare. Io, ostacolato come sacerdote, non ho potuto predicare pubblicamente, ma vivere, fare l'esperienza e poi testimoniare. In questa testimonianza non mi ha allora frenato il regime comunista. Con questa forte esperienza, allora, abbiamo, siamo entrati in questo nuovo spazio della libertà. e si poteva avere, direi, seduzione, tentazione, che di predicare, fare le attività. Invece, noi siamo entrati in questo nuovo spazio della libertà, con questa esperienza alle spalle, e siamo molto consci che è necessario, anche nella libertà, nella società secolarizzata, che è necessario testimoniare. Per poter testimoniare, vuol dire predicare con la vita, è necessario prima fare la propria esperienza. E questo, mi pare, è frutto di questi tempi bui del comunismo. E la convinzione forte, ferma, che questo è modo, forma dell'evangelizzazione oggi, di portare il Vangelo alla società che è secolarizzata. Sentendo queste sue affermazioni, mi viene da dire, anche nei casi estremi dove si vive le crisi maggiori che possono esistere, penso al comunismo, penso al nazismo, ad altre forme di dittatura, se una persona è serena dentro, testimonia il Vangelo, lo può fare comunque al di là della situazione in cui si trova? Certamente, perché nel comunismo c'era di fronte a noi un nemico che ci ha perseguitato. Nella libertà c'è un mondo che non ci capisce. Allora non vuol dire che è un nemico, ma uno che è differente, distante. Allora questo si può vivere anche qui. È vero che la persecuzione aiuta molto, a concentrarsi all'essenziale e noi non dobbiamo dimenticare che anche adesso, anche nella libertà, anche dove non c'è più persecuzione, dobbiamo concentrarci all'essenziale. Questo ci aiuta e questo è necessario anche oggi in questa situazione, in questa situazione della libertà. Io vorrei dire che alle volte la non libertà era più facile a vivere che la libertà, perché nella non libertà noi abbiamo un unico senso, il nemico, e direi combattere questo nemico. Invece nella libertà è necessario costruire, discernere e decidere, e questo è più difficile. Questo io non dico perché vorrei ritornare alla persecuzione, questo no, ma è così. Eminenza, lasciamo il tema dell'Europa per passare a quello dell'ecumenismo. Si ha un po' l'impressione che le differenze più marcate siano date piuttosto dalla gerarchia che dal popolo dei fedeli. Penso ad esempio alla Russia, dove c'è un forte ostruzionismo della Chiesa Ortodossa influendo sul potere politico per bloccare quello che la Chiesa Cattolica sta facendo anche a livello di promozione sociale. Lei cosa mi dice a riguardo? Allora in generale in Europa mi pare che è chiaro che la gerarchia allora tratta, è così responsabile, non la gente insieme. Allora da questo fatto è dato influsso della gerarchia qui nell'ambito dell'ecumenismo. E ciò che allora direi sull'ortodossia qui questo mondo degli orto russi, soprattutto russi, è un altro mondo perché loro sono molto legati al suo paese. Madre Russia, dicono. allora loro sentono esistenzialmente che la Russia è il loro spazio e non vogliono allora accettare che un altro entra in questo spazio, nonostante che Gesù Cristo ha detto andate in tutto il mondo. Ma questo è una cosa e poi mi pare che data la situazione dell'ortodossia l'ortodossia è legata molto al regime, direi anche al regime di prima, ai zar e così. Questo può essere una tendenza di essere legati troppo con il potere esistente e questo mi pare è un ostacolo nel dialogo ecumenico. Eminenza, io vorrei concludere questa nostra interessante chiacchierata con una domanda sulla famiglia. oggi questa cellula importante della nostra società è minacciata da diversi fuochi, l'aborto, l'eutanasia, le speculazioni sull'ingegneria genetica. Cosa deve proporre la Chiesa a questa nuova situazione per far fronte a queste nuove insidie? Io sono convintissimo che è necessario rifare, ricostruire la base della vita familiare e poi risolvere questi problemi che lei ha citato. La base della vita familiare è un amore vero che ha la dimensione della croce, vuol dire l'amore su misura di Gesù Cristo. Questo ricostruire e poi si possono direi trattare e risolvere altri problemi. questa è la mia visione. E' certo che la Chiesa allora sta contro l'aborto perché mi pare che è una cosa che io non sono capace a comprendere che si combatte tanto per la vita, per salvare la vita contro la guerra e qui non si protegge la vita. E altri casi, ma io ritorno mi pare che è necessario ricostruire la base, l'amore a questa dimensione, su questa misura e poi sacrificio. Questo è legato, essere per l'altro, vivere per l'altro, uscire dal proprio egoismo. Allora questo mi pare necessario, allora questo è punto di partire a risanare la famiglia. Io su questo suo chiaro messaggio la ringrazio per la sua testimonianza, per quanto ho voluto trasmettere ai nostri telespettatori e auguro una buona Pasqua a lei e a tutti i suoi fedeli. Grazie, grazie, altrettanto a tutti!